Nella sanità l'arrivo dei robot nelle sale operatorie dei principali ospedali della regione i primi mesi del prossimo anno porterà vantaggi anche alle molte eccellenze della nostra sanità. Tra queste l'urologia dell'ospedale triestino di Cattinara, reparto nato nel 1898, il primo in Italia, è diventato eccellenza in campi come la cura dei tumori e la laparoscopia. Il servizio di Marinella Chirico. L'arrivo della chirurgia robotica nei principali ospedali della regione si annuncia come un importante avanzamento di livelli e qualità dell'assistenza. I primi mesi del prossimo anno il robot entrerà nelle sale operatorie dei tre ospedali hub del Friuli Venezia Giulia, Udine, Pordenone e Trieste. A iniziare proprio da quello triestino di Cattinara e in particolare da Urologia, reparto nato nel 1898, primo in Italia, con la prima e unica scuola di specializzazione della regione, aperta nel 75, che può contare ora anche sul miglior specializzando d'Italia, un giovane medico di Sacile. Ci sono poi i master, quello sulla chirurgia andrologica e la disforia di genere, ovvero le disfunzioni sessuali, e l'ultimo, al via il 12 dicembre, sulla ecografia urologica, andrologica e nefrologica. Le eccellenze tecnologiche sono tra i punti di forza della struttura, diretta dal professor Carlo Trombetta. Le ultime riguardano il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna, grazie all'acquisizione del laser per l'IPB. Recentemente stiamo impegnandoci sulla terapia della calcolosi, sono alle viste l'acquisizione di due nuovi laser, la sostituzione della litotrisia extracorporea che funziona dal 1990. Si tratta di investimenti importanti che avranno una ricaduta diretta su assistenza didattica e ricerca, sottolinea il direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste, Roberto Di Lenarda. Strumentazioni e competenze, come quelle legate alla chirurgia robotica, potranno contribuire in maniera importante, aggiunge Di Lenarda, all'avanzamento di molte discipline della nostra sanità. Chirurgia robotica che, va ricordato, è l'evoluzione della laparoscopia, che fu eseguita per la prima volta in regione nel 1991, proprio a Urologia a Cattinara.